Se stai comprando casa ci sono 4 errori che non devi assolutamente fare. Mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente immobiliare e tutte le settimane pubblico dei video che possono esserti utili nel tuo acquisto della casa. Quindi ti invito a iscriverti per rimanere aggiornato. Il primo errore tra i più frequenti che le persone fanno è pensare che la proposta non sia effettivamente un contratto vincolante. Magari anche tu pensi che fare una proposta alla fine non sia niente di così vincolante perché alla fine propongo un prezzo, lo possono accettare, lo possono non accettare, diciamo che non c'è nessun tipo di vincolo. E questo l'ho visto anche in tanti video di persone esperte su YouTube che parlano di proposta, contratto preliminare e rogito. In realtà la proposta è nel momento in cui tu scrivi, proponi un prezzo, proponi delle condizioni, quindi prezzo, tempistica, caparre a chi ti sta vendendo la casa e la firmi per un determinato tempo. Cosa vuol dire? Che quella proposta che hai firmato è vincolante e valida per un determinato tempo. Per esempio 10 giorni che è una tempistica che più o meno si utilizza frequentemente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il venditore ha 10 giorni di tempo per accettare la tua proposta. Quindi se non l'accetta va bene così, proposta rifiutata si riparte. Può fare anche una controproposta o tu puoi proporre delle condizioni diverse. Ma se l'accetta quella proposta diventa vincolante sia per te che hai proposto le condizioni sia per il venditore che le ha accettate. In realtà la proposta, una volta accettata, non è più una proposta, è già un contratto e prende il nome di contratto preliminare. Nella prassi viene individuata la proposta e il contratto preliminare come due fasi distinte. Si dà una grande importanza al contratto preliminare, il che è giusto, ma la proposta una volta accettata è già contratto preliminare. Poi nulla vieta che si può fare un'altra scrittura privata, che possiamo chiamare contratto preliminare, che va a sancire dei nuovi accordi, questo ci mancherebbe altro. Ma nel momento in cui la proposta è firmata da entrambe le parti e vincolata, sei costretto a comprare a quelle condizioni. Quindi va scritta bene, fin dall'inizio, non prenderla sotto gamba, non pensare che al contratto preliminare poi potrai specificare ulteriori cose, eccetera. Specifica tutto quello che devi specificare già nella proposta. Il secondo errore tra i più frequenti è fare una proposta senza conoscere il tuo budget. Quindi senza sapere quanto effettivamente puoi o ti conviene spendere. Calcolare il budget è un passo importantissimo nel processo di acquisto di una casa e deve essere fatto all'inizio, prima di fare qualsiasi altra cosa. Abbiamo parlato spesso di come calcolare il budget, ma per darti una formula veloce che puoi utilizzare sono i tuoi risparmi sommati all'importo di mutuo che puoi ottenere e togliendo i costi che ci sono connessi all'acquisto di una casa. In questo modo ti vai a calcolare più o meno quanto è il tuo budget. Ovviamente devi guardare case e fare proposte su immobili che rientrano nel tuo budget. Non puoi fare proposte più alte anche perché poi ti troveresti in difficoltà nel futuro. Il terzo errore è affidarsi agli accordi verbali. Molto spesso dei clienti mi raccontano sì ma io ho fatto una proposta, io gli avevo detto, gli avevo fatto una proposta al telefono, eccetera. Tutto quello che viene detto verbalmente ha un valore morale sicuramente, eccetera, ma non ha un valore legale. Secondo la legge italiana gli immobili devono essere compravenduti in forma scritta. Quindi quello che conta è lo scritto, sono i contratti. Se tu hai proposto 100.000 euro per l'acquisto della casa e il venditore ti ha detto va bene, poi vende la casa ad un'altra persona facendo un contratto scritto, purtroppo tu non hai nessun vantaggio, non hai nessun potere di far valere l'accordo verbale che avevate. Perché la legge dice che le case si vendono in forma scritta. Quindi fai attenzione, tutte le volte che parli e raggiungi un accordo verbale riguardo all'acquisto di un immobile, scrivilo. Magari non siete ancora pronti per fare un contratto preliminare, una proposta formale, scrivi semplicemente una mail dove indichi gli accordi che avete raggiunto e esigi che l'altra persona ti risponda in maniera affermativa. Non è ancora un contratto preliminare ma già si capisce che siete d'accordo, che c'è una trattativa in ballo e c'è qualcosa di scritto, una prova che può certificare questa cosa. Il quarto errore è pensare che il notaio garantisca per qualsiasi problema sull'immobile. Pensare che il notaio verifichi tutto e quindi quando si arriva davanti al notaio, il notaio ci fa firmare l'atto, tutto a posto. Non è così perché il notaio ha dei compiti ben precisi ma non fa tutte le verifiche che sono necessarie sull'immobile. Per esempio il notaio si occupa di fare le visure ipotecarie, quindi di vedere se ci sono delle ipoteche, si occupa di verificare chi sono gli effettivi proprietari, quindi di verificare che chi ti sta vendendo la casa sia effettivamente chi ha il potere di farlo, ma non si occupa, ad esempio, di verificare la conformità dell'immobile. Quindi non va sul posto a verificare se la casa è conforme rispetto al catasto o rispetto all'urbanistica o alle pratiche edilizie presentate in comune. Hai mai visto un notaio che fa il sopralluogo nella casa con la piantina per controllare la conformità? No, non è tra i suoi compiti e non lo farà mai. In alcune zone d'Italia i notai esigono una relazione tecnica che indichi la conformità o meno dell'immobile da portare all'atto. È una relazione che fanno dei tecnici autorizzati, quindi architetti, geometri o ingegneri, ma non in tutte le zone d'Italia è così. Per esempio questo avviene in Toscana, ma non per esempio a Milano. A Milano la conformità dell'immobile nel momento dell'atto di fronte al notaio è semplicemente un'autodichiarazione del venditore, che magari non sa nemmeno se l'immobile è conforme o non è conforme. Quindi fai attenzione perché il notaio controlla alcuni aspetti della compravendita immobiliare, ma non ti dà la sicurezza che l'immobile che stai comprando sia esente da qualsiasi tipo di problema. Spero che questo video ti possa aiutare ad evitare qualche problema nel tuo percorso immobiliare. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!